Negli ospedali dell'Asp di Catania sono 298 i bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni che sono stati vaccinati contro il Covid-19. Sono passati una decina di giorni dall'inizio della campagna vaccinale per quella fascia di età. Il siero ai bambini viene iniettato nei reparti di pediatria di Acireale, Biancavilla e Caltagirone. Per le vaccinazioni ai più piccini i reparti sono stati allestiti ad hoc. Per corsi dedicati, spazi colorati, educatori professionali e assistenti sociali che in questi giorni di clima festivo accolgono i bambini con travestimenti e addobbi. Il protocollo non prevede più di 20 minuti di attesa. Per la vaccinazione è necessario il consenso di entrambi i genitori e si può richiedere aiuto per la prenotazione al proprio pediatra di libera scelta. A Acireale i bimbi possono essere vaccinati dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18 nel punto di vaccinazione ospedaliero. A Biancavilla, stessi orari al piano terra del blocco B dell'ospedale, nei locali dell'ex pediatria. A Caltagirone, infine, punto vaccinale pediatrico sempre aperto dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18 al terzo piano dell'edificio Clementi dell'ospedale locale. A Biancavilla, stessi orari al piano terra del blocco B dell'ospedale, nei locali dell'ospedale,